A me leggeremo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 6 dal versetto 1 al versetto 15 alleluia gloria al nome del Signore dice così la parola di Dio dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea che è il mar di Tiberiade e una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli or la Pasqua la festa dei Giudei era vicina Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva a lui disse a Filippo dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare diceva così per provarlo perché sapeva bene quel che stava per fare Filippo gli rispose 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simon Pietro gli disse c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci ma che cosa sono per tanta gente Gesù disse fateli sedere c'era molta erba in quel luogo la gente dunque si sedette ed erano circa cinquemila uomini Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta lo stesso fece dei pesci quanto volevano quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché nulla se ne perda essi quindi li raccolsero e li riempirono dodici ceste di pezzi che di quel cinque pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato la gente dunque avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto disse costui è certo il profeta che deve venire nel mondo Gesù quindi sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte tutto solo signore vogliamo ringraziarti con tutto il cuore signore grazie ancora signore vogliamo prestarci ad ascoltare la tua parola signore vogliamo badare bene a ciò che ascoltiamo perché la tua parola signore è fonte di vita signore la tua parola è potente la tua parola è in grado signore di cambiare le vite di trasformare di guarire signore grazie ancora perché ancora in questa mattina ci troviamo nel posto più bello signore il posto più bello è stare alla tua presenza ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù benedetto in eterno amè amè gloria a dio bene allora questa mattina volevo riflettevo proprio su questa parola non sarò lungo ma cerco di dare qualche spunto di riflessione e abbiamo letto c'è qua questa storia infatti nel secondo versetto dice Gesù no il secondo versetto dice una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi e questa frase mi ha fatto riflettere sapete quante persone ho conosciuto ho trovato che vedevano anno io quando ho finito il programma che sono tornato ad alessandria nella mia città natale e pensavo dico adesso vado là e tutti si convertono invece non è stato così sapete però ho ricevuto tanti applausi tra virgolette tante persone hanno visto il miracolo di dio nella mia vita tante persone qua abbiamo letto che c'erano una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che Gesù faceva Gesù guariva Gesù liberava Gesù faceva cose straordinarie e possiamo vedere ora una riflessione che facevo perché tu io questa mattina siamo qui facciamo parte di quella folla che seguiva Gesù perché vedeva i miracoli e allora sapete vado in chiesa perché ah che bello perché si ascoltano i canti perché è bello sentire i canti perché ho visto veramente che Gesù è vivente vado per questo dietro a Gesù oppure perché voglio veramente conoscere Gesù e questa mattina identificheremo questi due aspetti molto velocemente cioè seguire Gesù perché vediamo i miracoli oppure seguire Gesù perché veramente lo vogliamo conoscere lo abbiamo conosciuto e vogliamo camminare nelle sue vie e quindi vediamo questa storia questa storia questa storia che è straordinaria e sapete al versetto 5 dice Gesù alzati gli occhi questa frase mi farei intanto aveva questa moltitudine di persone davanti Gesù alza gli occhi e questa mattina sappi che Gesù sta alzando il suo sguardo proprio verso di te Gesù questa mattina non c'è poi puoi aver ascoltato grazie a dio questa testimonianza ringraziamo dio perché anche io ogni volta che la racconto veramente do gloria a dio perché ripercorro alcune fasi della mia vita magari tu stesso hai ascoltato determinate testimonianze questo ti hanno in qualche modo toccato il cuore allora questa mattina al di là della testimonianza al di là di quello che hai potuto ascoltare io non so tu come sei venuto qua questa mattina io so come sono venuto io qua questa mattina ma io non so come tu sei qua questa mattina ma quello che ti voglio dire è che non è un caso che tu questa mattina sei qua e che Gesù sta alzando lo sguardo proprio verso di te Gesù vede nel dettaglio Gesù sa perfettamente la mia e la tua condizione questa mattina e quindi veramente volevo fare leva proprio su questo aspetto e visto che vedendo questa gran folla che veniva a lui disse a filippo ascoltate bene questi due passaggi perché sono un po il succo di questa meditazione questa mattina allora una gran folla lo so che disse a filippo dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare allora gli dice a filippo Gesù ma Gesù non sapeva abbiamo riflettuto su questo Gesù conosce ogni cosa quindi perché Gesù gli fa questa domanda a filippo e filippo comunque era un discepolo era uno che seguiva il maestro non faceva parte della moltitudine che seguiva Gesù soltanto perché vedeva miracoli che Gesù faceva e quindi gli dice questo ma vedete la risposta di filippo ora esaminiamo un attimo la nostra vita un po nel dettaglio forse c'è una situazione particolare forse c'è una situazione difficile nella tua vita forse c'è una situazione che all'occhio umano riflettiamo no cinque pani e due pesci all'occhio umano una situazione impossibile ma infatti noi non vogliamo ragionare con l'occhio umano perché Gesù è ancora oggi l'iddio dei miracoli l'iddio che ancora oggi fa cose inimmaginabili l'iddio che ancora oggi salva libera guarisce fa cose che nemmeno noi possiamo immaginare e pensare perché lui questa mattina se noi ci disponiamo il nostro cuore riceviamo la sua parola nel nostro cuore sapete la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso la parola di Dio il fratello prima accennava l'importanza di vivere la parola di Dio portare i figli noi essere di esempio perché è questa parola che cambia i cuori cambia le vite noi possiamo veramente attraverso la parola di Dio essere dal peggiore di questa vita forse mentre raccontavo la testimonianza forse tu potevi pensare io ho fatto 30.000 volte peggio di te ok va bene io sono arrivato anche per esempio quasi a uccidere una persona sapete cose bruttissime grazie a Dio grazie a Dio non mi è capitato di uccidere nessuno ma sapete non è un vanto non è un vanto tutto questo ma veramente forse hai pensato questo ma io ti voglio dire questa mattina che Gesù è in grado di cambiare anche la tua vita se tu glielo permetti però è lì la chiave quel figlio al prodigo dice la scrittura rientrato in sé ci vuole una presa di posizione la preghiera certamente è efficace perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia io ho visto nella mia vita cercando il Signore nella mia vita ho visto cose straordinarie liberazioni guarigioni mente guarita mente sanata cuore nuovo che tanto che non capivo a momenti manco io cosa stava accadendo ma vedevo una trasformazione incredibile prima magari nella vecchia vita dove andavo andavo in ogni supermercato dovevo rubare qualcosa e oggi invece quando c'è qualcosa anche di rotto sapete lo porto alla cassa mi è capitato per quello ve lo sto dicendo e invece magari chi era con me ma portalo via tanto è rotto porto via ma il Signore mi vede che devo portare via oppure magari i miei figli mi è capitato è caduto qualcosa si è rotto metti via che nessuno ti ha visto no 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 il Signore mi ha visto prendiamo questa cosa la portiamo alla cassa e la pago sapete ma come una persona che prima viveva in una certa maniera questo cambia Zaccheo ve lo ricordate Zaccheo Zaccheo era un esattore delle tasse Zaccheo frodava possibilmente quei lavori lì erano qualcosa che ti inducevano proprio a vivere frodando la gente un giorno Zaccheo conosce Gesù e quando fa l'incontro con Gesù la sua vita cambia la sua vita non è più quella di prima quando noi conosciamo Gesù e Zaccheo ci dice la scrittura che lui dice se ho frodato qualcuno gli ridarò anche il quadruplo io ho fatto questa esperienza uscendo dalla comunità c'era un bar per quelli che mi ricordavo perché ovviamente tante persone poi avanzavano anche soldi da me quindi sinceramente non so nemmeno io cosa facevo a volte perché poi non mi ricordavo nemmeno più ma quello me l'ho ricordato dovevo andare in un bar che avanzava 50 euro da me sapete cosa ho fatto avevo soltanto 50 euro ero combattuto non vi nego perché dico ma mi sento proprio sciocco a fare una cosa del genere vado là sono passati tre anni sapete cosa ho fatto sono entrato al bar questo quando mi ha visto l'ultima volta era successo un maceno in quel bar avevo litigato questo mi vede entrare subito ha fatto una faccia ho detto no no guarda sono venuto a bere un caffè un caffè mi fa ma tu ti ricordi che certo sono venuto anche a saldare il debito sapete io ho dato 50 euro e rimanamente piangeva perché dice no non posso credere l'ho potuto poi parlargli di Gesù sapete quando Gesù cambia la vita noi non siamo più quelli di prima non esiste che noi abbiamo conosciuto Gesù e continuiamo ancora a rubare a affrodare a fare le marachelle non esiste anche sul posto di lavoro magari sapete ci devo rimettere 100 aspetta faccio il furbo tanto nessuno mi vede ci guadagno 80 no 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 Gesù se cambia una vita la cambia completamente e questo veramente possiamo esaminare ancora ogni cosa da questa mini riflessione e poi ci viene detto questa domanda di Filippo dove compreremo del pane come a Filippo non stava vedendo i miracoli di Gesù forse tu nella tua vita non hai visto qua di fronte hai un miracolo vivente qua di fronte hai un tizzone come tanti di noi stampato dal fuoco un tizzone veramente che non è più quello di prima mente cambiata mente nuova oggi mi vedete così quindi capisco anche che può venire difficile entrare nell'ottica di quello che ero prima magari per certi versi però sapete e magari nella tua vita c'è un problema grosso io non lo so forse stamattina il Signore ha voluto così mettere in evidenza proprio questo questa mattina qual è il problema della tua vita qual è quel problema che forse lo vedi come una montagna davanti a te sapete io quando sono entrato in comunità altro che montagne io dicevo io qua sono finito io qua a poco di lì a breve pensavo anche di andarmene e andarmi avevo tentato anche il suicidio tempo fa quindi sapete non è che ero messo lì che bello adesso sono in una comunità per tossicodipendenti mi faccio il programma tutto finito tutto passa ho pagato delle conseguenze mia mamma ancora oggi sono passati tanti anni grazie a Dio ha visto il cambiamento nella mia vita ma ancora oggi ha i traumi ancora oggi ha paura che io da un momento all'altro potessi tornare indietro sapete il danno che si lascia e quindi qual è il problema nella tua vita questa mattina Filippo dice risponde non dice ascoltate bene non dice signore ma io so che tu puoi ogni cosa quindi tu e sfami tutti eppure aveva visto i miracoli invece gli risponde così versetto 6 versetto 5 dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare vedete non gli dice a Gesù signore io credo che tu quanti di noi possiamo questa mattina dire io credo signore che tu puoi ogni cosa certo ma nella pratica nella vita quel problema che così ti sta affondando che sembra quasi che stai perdendo la speranza stai perdendo la lucidità sembra quasi che quel problema veramente ti sta tirando giù e non c'è più speranza invece no cambia la prospettiva questa mattina è vero che il problema può essere grande è vero che la montagna può essere grande però noi dobbiamo avere fede nel signore avere fede nel signore non è una cosa così sapete la fede viene dall'udire la parola di Dio e noi per riuscire ad avere la fiducia nel signore per poter abbattere ogni situazione davanti alla nostra vita noi dobbiamo divorare la parola di Dio dice Paolo agli Efesini dice fortificatevi nel signore nella forza della sua potenza e questo farà la differenza perché è un combattimento e quindi dice quando l'avversario verrà come una fiumana lo spirito dell'eterno lo metterà in fuga questo è noi dobbiamo divorare la parola di Dio e allora vediamo che Gesù vado avanti perché se no mi fermo in troppi particolari e non voglio perché è proprio per mancanza di tempo diceva così per provarlo sebbene sapeva quel che stava per fare Gesù sapeva ciò che stava per fare Gesù sa quello che vuole fare nella tua e nella mia vita Gesù sa perfettamente quello che sarà quando noi usciremo di qua Gesù sa con quale risposte tu questa mattina sei andato Gesù magari hai anche pensato sì sì a te viene facile parlare perché non sai quello che io sto passando io vi posso dire soltanto questo che anche avendo conosciuto il Signore mi sono trovato in situazioni dove veramente volevo scappare via scappare lontano e il Signore mi richiamava dove potrò andare lontano da te anche se vado là tu sei là anche se vado là tu sei là dove potrò andare Signore lontano dal tuo spirito e il Signore immancabilmente sapeva come venire a consolare il mio cuore in momenti dice ma come hai conosciuto Gesù dice io vi do la mia pace non come quella che il mondo dà certo ma possiamo affrontare situazioni che noi dobbiamo avere le armi giuste per poter abbattere quei giganti perché sennò quei giganti il diavolo sapete non guarda in faccia a nessuno il diavolo che tu questa mattina il diavolo ha un esercito ben organizzato e che tu e io questa mattina siamo qua a meditare questa parola lui non vuole io stamattina avevo una profonda sonnolenza sapete ci sono queste cose ci sono ho pregato il Signore avevo una profonda sonnolenza dicevo Signore dammi tu le forze come poi il fratello all'inizio ha detto siamo qua come siamo però ci affidiamo a Dio e questo mi ha dato come dire lo spunto ancora grazie Signore perché è vero non è per le mie capacità ma è per la tua forza e ringrazio Dio perché questa parola ha toccato profondamente per primo il mio cuore per prima la mia vita e pregavo Dio Signore che io possa esprimere questa mattina quello che tu hai messo nel mio cuore nella semplicità ma l'obiettivo principale è che questa parola possa penetrare nei cuori che possa Signore trovare dei cuori ecco fertili dei cuori che veramente possano fare tesoro di questa parola e se noi facciamo tesoro della parola di Dio allora ci sarà poi del frutto dice Gesù dice porterete molto frutto per la mia gloria questo è semplicemente quindi vedete come la parola di Dio è semplice io non sono vi ripeto ho preso la terza media alle 150 ore quindi come vocaboli come state ascoltando io non sono un grande oratore ma la parola di Dio è potente la parola di Dio si spiega con la parola di Dio è semplice perché Gesù spiegava le cose difficili del regno dei cieli poteva usare un parlare a noi incomprensibile eppure ci spiegava le cose terra a terra in parabole a comprensibile a tutti quindi non possiamo dire ma io non ho capito no se non hai capito è perché non vuoi capire perché la parola di Dio è semplice se tu apri il tuo cuore Dio parla alla tua vita e ti fa capire invece cosa tu devi fare poi mi avvio già verso la conclusione diceva così per provarlo Filippo gli rispose 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto vedete cosa dice Filippo cosa diciamo noi questa situazione ma quando mai signore è impossibile che tu possa risolverla io vi posso dire che ho visto veramente nella mia vita ricostruire veramente le mura di Gerico distrutte ho visto le mura nella mia vita che si sono alzate mattone dopo mattone prendo questo esempio per farvi capire le mura di Gerico ormai vedevo tutto distrutto una situazione impossibile una situazione ormai eppure il signore l'ha ricostruita in maniera gloriosa e poi dice questo uno dei suoi discepoli Andrea Filippo dice c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci ma cosa sono per tanta gente Gesù fattoli sedere e qui concludo Gesù fattoli sedere c'era molta erba in quel luogo e dice così prese i pani dopo aver reso grazie e li distribuì lo stesso fece dei pesci in quantità che volevano Gesù sfamò tutti quanti vedete spero che siete riusciti a seguire il filo e voglio ancora dare un tassello al di là del problema della difficoltà che stiamo appassando vogliamo addentrare aprire dice la parola di Dio io sto alla porta e busso se uno apre io entrerò con lui e cenerò con lui ora qual è la posizione del tuo e del mio cuore il problema abbiamo visto che c'è ok il problema c'è e se non stai passando problemi in questa vita è possibile che o li hai passati o arriverà un problema non perché io voglio fare quello che augura i problemi ma è così nel mondo avrete tribolazioni ma fatemi animo io ho vinto il mondo ma la cosa principale è la posizione del nostro cuore questo farà la differenza della nostra vita infatti mi viene in mente l'ultimo passo in in filippesi quando notiamo che l'apostolo Paolo insieme a Sila si trovano dove? in un carcere si trovano in un carcere buio ai tempi le celle dei tempi non erano come quelle di oggi che diciamo sono sempre carceri però ai tempi erano veramente delle nei sotterrani insomma se fate una ricerca vedete in quale condizione stavano e che cosa succede là? Paolo e Sila cantavano canti a Dio Paolo e Sila erano in prigione non perché avevano fatto la vita che ho fatto io non perché avevano qualcuno di voi non perché avevamo fatto del male alle persone non perché abbiamo fatto dei reati ma perché predicavano l'Evangelo e come avrebbero potuto sentirsi Paolo e Sila avrebbero potuto dire non è giusto signore ma perché signore perché fai questo perché mi trovo qui tanti perché eppure cantavano e lo davano Dio tanto che le celle si spezzarono le carceri si aprirono e là ci fu una testimonianza del carceriere di Filippi che voleva togliersi la vita e gli dissero questo non farti del male non farti del male perché siamo tutti qui forse questa mattina tu hai pensato che quel problema ti sta portando forse a farti del male no no evita ma veramente affidati al Signore che questa parola possa ecco fare breccia nella tua vita nella mia vita possiamo di fronte alle difficoltà della vita custodire dice proverbi custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa vedete quello noi dobbiamo custodire come facciamo a custodire il nostro cuore badando alla parola di Dio osservando i comandamenti di Dio ubbidendo alla parola di Dio questo farà la differenza togliendo dice l'Apostolo Paolo ecco tutte le cose anche le cose lecite di questa vita sapete possono diventare un impedimento per la nostra vita anche un lavoro stesso sapete la mattina col fratello consideravamo un po' l'aspetto lavorativo e una benedizione di Dio non mi dilungo in questo perché ma una benedizione di Dio vi porterà sempre a Dio una benedizione ma ho bisogno purtroppo non so come far arrivare a fine mese certo questo non sto dicendo che non devi lavorare però sapete cerchiamo di veramente custodire bene il nostro cuore e dice cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose ascoltate bene tutte le altre cose vi saranno date in più vi saranno sopraggiunte quello che noi dobbiamo fare questa mattina è questo il succo di questa parola è custodire bene il nostro cuore davanti a Dio questo farà la differenza questo ti porterà a dire che cosa è vero signore il problema è grande ma con il tuo aiuto io sono più che vincitore e tu sarai un cristiano vittorioso un cristiano che certo arriverà al problema certamente ma sapete come lo affronterai lodando cantando adorando diventerai veramente un adoratore per la gloria di Dio come facevano Paolo e Sila che possiamo essere veramente nelle difficoltà avere veramente un cuore come aveva Davide un cuore secondo la volontà di Dio un cuore che sappia amare Dio amate Dio più di ogni altra cosa perché questo noi dobbiamo fare questo sarà la chiave ricordatevi questa parola c'ho il problema ma ho ascoltato questa mattina o quel giorno non lo so magari passerà anche un anno ma credo che il Signore sa poi come rammentare la sua parola che rimanga questo scrivetelo sulla tavola del vostro cuore custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa amè perché da esso provengono le sorgenti della vita addio la gloria amè